Paese e all'intera regione. Grazie. Grazie a tutti. Ovviamente l'Europa non è l'unica che ha la colpevolezza, ce ne sono altri ben più responsabili di noi, per esempio il regime che ha sempre comunque dei sostegni e in una realtà non solo a Mosca e a Teheran. Poi ci sono i giadisti che prosperano sul caos e seminano terrore inedito e poi in un scenario internazionale in cui lo scenario rimane alla Siria. E poi delle grandi potenze che sembrano non capire quanto la loro visione strategica sono semplicemente di piccoli calcoli sordi, di a breve termine, che alimentano la crisi e portano questa guerra a una conflagrazione a lungo termine. E quindi bisognerà avere un'impostazione più realistica dei rapporti di forza, delle ambizioni forse più modeste, ma tuttavia una volontà di tutti gli attori di esercitare la massima influenza rispetto a coloro che sono gli attori della Siria. Le nostre leve finanziarie ed economico-umanitarie devono incentrarsi su degli obiettivi che siano raggiungibili. Non ci possono essere altri imperativi maggiori che vengono iscritti nel suo ordine del giorno. Grazie, signora alta rappresentante e cari colleghi. Oggi parlerò soprattutto del futuro, perché noi dobbiamo impegnarci affinché questo sia un futuro per il popolo siriano. Dobbiamo garantire che uno degli obiettivi principali della strategia dell'Europea per la Siria sia quella di agevolare una soluzione politica e che dovrebbe anche includere un meccanismo di applicazione e di monitoraggio dell'ONU. Dobbiamo garantire che l'Unione Europea svolga un ruolo incisivo, attivo, proattivo nell'ambito di questo grande quadro negoziale. L'Unione Europea è il più grande donatore e nel corso della riunione di Bruxelles si è impegnata per dare ancora un maggiore contributo alla posto di costruzione. Ecco, perché rivolgo un appello a lei, signora alta rappresentante, a fare in modo che questo contributo possa servire da leva proprio per svolgere un ruolo molto importante nel progresso negoziale, per garantire che ci sia una transizione equa e che venga effettuata il prima possibile per il popolo siriano. Noi non possiamo lasciare questo nelle mani di un regime che non ha legittimità e che da anni massacra il proprio popolo. Dunque non possiamo fare in modo che questo possa essere fatto solo e semplicemente con l'Iran e la Russia, alleati della Siria. Non possiamo fare in modo che l'opposizione moderata si dissolva e noi dobbiamo preservarla se vogliamo avere un futuro per la Siria, soprattutto adesso dopo il terribile attacco chimico a Dan Shaikun. Dunque perché i civili sono vittime e continuano a soffrire. Dunque il rispetto per il cessato del fuoco è stato violato così tante volte. Per cui noi dobbiamo effettivamente avere un cessato del fuoco e ci sia un accesso che venga permesso agli operatori militari. Signora Mogherina, è importante garantire che l'elecente memorandum che ha creato una zona di de-escalation firmato dall'Iran, dalla Turchia e dalla Russia non permette un ulteriore obiettivo che sia dato dall'opposizione moderata siriana. Dunque è effettivamente importante avere accantoabilità per avere giustizia, equilibrio e per fare in modo che sia una soluzione moderata per qualsiasi futuro governo e che i perpetratori siano portati di fronte alla giustizia e vengano anche sanzionati da parte dell'ambito del diritto internazionale. La ringrazio. Grazie, Bustinar. Signore e signore, abbiamo iniziato con un po' di ritardo questa sessione, per cui dovremmo tutti attenerci ai tempi impartiti. e quindi io sarò estremamente severo nell'impartire il tempo di parole che è stato dato. Signor Tanno. Grazie, signor Presidente, signor Mogherini. Noi continuiamo a dire che la Siria è stata una guerra civile, ma è stata invece una guerra indiretta, una guerra per truttura a livello di Islam. E nonostante la lotta contro l'Islas, la Russia continua effettivamente a cercare di appoggiare l'Islas e Malawit di Hassan. E dunque qui cosa vogliamo fare? Vogliamo cercare di evitare che ci siano i kurdi alla frontiera siriana, nonostante il fatto che ci sia tutta una forza contro l'Islas. E dunque c'è sempre un appoggio della Turca, che fa parte della Nato. E dunque adesso, nonostante quello che è successo in aprile, questo significa una lotta contro l'Islas. E dunque effettivamente da quando è iniziato il conflitto si continua a consolidare i propri vantaggi territoriali. E dunque c'è un'andata e ritorno. E dunque questa fiducia è stata sottolineata da questo orrendo attacco di aprile a Sablan, e dunque con migliaia di vittime. E poi questo significa una violazione terribile degli diritti umani. Proprio ieri il Dipartimento di Stato americano ha sottolineato che c'è effettivamente stata una relazione di Amnesty International che ci sono dei crematori e di forno di crematori dove le persone vengono portate a morire. E dunque a questo Parlamento, già più sei anni fa, avevo detto che ci doveva essere una no-fly zone. Però adesso cosa bisogna fare? Bisogna considerare delle opzioni che difendano i civili, dipendano dalla faccia, soprattutto considerando delle suddivisioni territoriali e soprattutto delle amnestie. Anche se sono assolutamente inaccettabili. Grazie. Onorevole Tannock, c'è un cartellino blu del signor Boyle. Accetta? Boyle. Vabbè, sì. Allora, prego. Grazie, signor Presidente. Grazie, onorevole Tannock. Ma allora lei come mai dice che queste notizie del Dipartimento di Stato americano siano giuste? Perché Colin Power, durante la guerra irachena, aveva inseminato delle menzogne per quanto riguardava gli amarmenti di istruzioni di massa che non esistevano. Ma io adesso Colin, effettivamente Colin Power dice che rimpiagge tutto questo. Adesso si sveglia la notte con degli incubi. Mi dispiace, signor Presidente. Non ho ben capito la domanda perché c'è stato un problema tecnico. Quindi forse magari lei potrebbe ripetere questa sua domanda in modo molto più telegrafico e compatto. Mi scusi, potrebbe essere più breve nella sua domanda per cortesia. Va bene. Allora, ripeto in modo telegrafico e le ho chiesto prima come mai o da dove lei prende questa certezza e notizia che il Dipartimento di Stato abbia diffuso delle notizie vere perché Colin Power, che ha portato avanti la guerra in Iraq, aveva diffuso delle immagini di armi di istruzione di massa. Adesso lo rimpiange anche se dorme come un bambino e che però la notte si sveglia con degli incubi e piangendo. Ma io l'ho sottolineato nella mia relazione e nel mio intervento che il regime di Assad ha portato avanti dei crimini e ha ucciso bambini e donne in modo deliberato. Dunque l'uso di armi chimiche che purtroppo l'amministrazione precedente e Obama ha rifiutato di vedere come una linea invalicabile ha fatto sì che continua il regime di Assad in modo a portare avanti la sua politica atroce. Ci sono stati crimini di guerra che tanti hanno commesso, ma questi effettivamente sono i peggiori e colpevoli al regime di Assad. Grazie, signor Presidente. Volevo presentare una mozione d'ordine. Noi abbiamo cominciato 20 minuti più tardi perché la signora Mogherini era in ritardo, però mi sembra che noi avremmo dovuto essere informati. Dunque le chiedo per cortesia di farlo in futuro. La discussione sulla strategia dell'Unione Europea sulla Siria è urgente. Ieri il governo americano ha trovato un crematorio vicino a delle prigioni con delle uccisioni di massime. Dunque queste sono veramente delle azioni terribili perpetrate dal regime di Assad e dei suoi alleati. Dunque si tratta di un'uccisione di massa di persone innocenti in Siria. E dunque che cosa significa che noi non avremmo mai voluto di nuovo vedere una cosa? Dunque che cosa significa che vogliamo avere la pace e la contabilità per il popolo siriano? E credo che noi, così come già detto nell'ultima discussione che abbiamo avuto sulla Siria, no nessuno e mai dovrà di nuovo esserci una cosa di questo genere. Tuttavia c'è una posizione comune tra gli stati i membri meglio tardi che mai sulla strategia della Siria. Però noi dobbiamo svolgere un ruolo più incisivo proprio sotto la leadership dell'ONU. e noi dobbiamo considerare che il nostro ruolo come donatore maggiore deve essere utilizzato proprio per cercare di persuadere coloro che hanno continuato a uccidere, a cercare di salvare le persone, a di porre fine alla carestia, ai crimini di guerra. E al di là della strategia io volevo di nuovo rivolgere un appello di impegnarsi di più e continuare su questa strada sviluppata a Terena per cercare di smetterla di appoggiare il regime di Assad e di affrontare le conseguenze. Questo vale come l'Italia che ha fatto in passato per quanto riguarda le stazioni nei confronti della Russia. e dunque credo che ci debba essere a questa accountability il lato senso. Dunque abbiamo bisogno di più leadership perché in questo vuoto in cui vogliamo il nostro ruolo non andrà senz'altro a favore del popolo siriano. Grazie. Lei ha un cartellino blu del signor Cinedino. Accetta? Signor Cinedino. Presidente, una domanda, signor Aschache. Quanto ha detto sui crematori e le altre cose sulla Siria? È frutto della sua immaginazione oppure ha delle prove? Non si possono dire delle cose così senza delle prove. Se avesse ascoltato avrebbe sentito che ho citato il governo statunetense. C'è stata una relazione sulla presenza di crematori. E comunque la sofferenza dei siriani è concreta. Se lei non ci crede la storia la giudicherà molto duramente. Signora Mattias. Onorevole Mattias. Brigada, signor Presidente. Signora Mogherini. Presidente, signora Mogherini. Per quanto riguarda gli orientamenti generali, non ho divergenze d'opinione con lei. Lei mira ad una soluzione politica. Lei mira ad una soluzione politica.